Musica Giuseppe Manfra, 41 anni, agente della polizia stradale, residente nel comune di Candida, in provincia di Avellino, è morto a causa del covid. Era ricoverato all'unità operativa di anestesia e rianimazione dell'azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati dal 28 ottobre scorso, ma le sue condizioni purtroppo si sono aggravate e non ce l'ha fatta, commosso ricordo dalla questura di Napoli dove Giuseppe ha lavorato per tanti anni prima di approdare ad Avellino, mentre tantissimi messaggi di solidarietà e corrodoglio stanno giungendo alla famiglia per la terribile perdita che ha molto scosso tutta la comunità del comune dell'Avellinese. Il decesso è avvenuto nel pomeriggio di sabato, 12 dicembre. Giuseppe era risultato positivo al coronavirus ed era stato ricoverato in terapia subintensiva nel reparto di medicina d'urgenza. Il 14 novembre, però, seguito del peggioramento del quadro clinico, con circa l'88% del tessuto polmonare compromesso, era stato trasferito al reparto di terapia intensiva. Il 14 novembre, pericioramento del quadro clinico, con circa l'88% del quadro clinico, è stato trasferito al reparto di un nuovo quadro clinico,